Ciao a tutti, Poetry New Year by Lips 2019. Dimitri Ruggeri legge l'amico Cristian Tito che purtroppo non c'è più. Ti daranno infinite occasioni per piegarti e tu non ti piegare. Basterà uno sguardo a certe facce per sentire minacciata la tua fede, ma tu credi, credi sempre, figlio mio. E non credere che ogni credo poi non muti, ma dentro quel mutare qualcosa si conserva, quel passarci dentro agli occhi un po' di luce, quel dirti a bassa voce solamente che ci siamo, che per te volevamo solo esserci. e miracolosamente nel miracolo della tua vita, per un po' ci siamo stati.